Il bestione che ho qua davanti è un Acer Predator 17, guardate belle le linee rosse qua sul retro con il logo Predator, guardate la tastiera, quanto è larga, il poggia polsi, quanto è grosso, quanto è retro illuminato in maniera particolare, ci sono quattro zone colorate, guardate il touchpad anche qui, quanto è enorme, poi la linea, la fila di tasti macro dedicati che possono essere personalizzati via Windows. Questo non è neanche il top di gamma in realtà della linea Acer perché c'è il 17X che introduce alcune caratteristiche più avanzate dal punto di vista hardware, ma questa comunque è una macchina al top della linea Predator 17, il modello che ho provato io infatti ha 64GB di RAM e non sto scherzando, su quattro moduli da 16GB all'uno RAM DDR4 che poi voi volendo potete anche andare a sostituire personalmente perché se lo girate e togliete questo sportellone sul fondo vengono fuori due slot, gli altri due sono dalla parte opposta, dovete smontare tutto e probabilmente non c'è mai bisogno, ma insomma oltre a questi due slot poi avete la memoria SSD con accanto un altro connettore libero, quindi potete fare un RAID SSD in aggiunta ad una dotazione hardware che poi prevede il processore i7, 6700HQ, una grafica Nvidia GTX 980M e un monitor 17 pollici che può essere Full HD oppure 4K come nel mio caso monitor che è un IPS opaco con degli angoli di visuale davvero magnifici su un telaio che arriva a pesare 4K, che è spesso 4cm, che ha all'interno 6 altoparlanti, insomma è un laptop che dal punto di vista hardware non ha nulla da invidiare a nessuno, però una macchina così deve essere perfetta, deve girare davvero bene, le aspettative sono molto molto alte, io mi sono anche divertito tantissimo, ve lo dico subito a provarlo perché di solito mi occupo di macchine leggere 2 in 1 ultraportatili e qui siamo esattamente agli opposti, mi ha incuriosito parecchio la presenza di questo modulo qua, si chiama Frost Core, è una ventola aggiuntiva che voi potete attaccare qua sul lato, inserire qua sul lato al posto del lettore DVD, del masterizzatore DVD, la trovate già compresa nel prezzo è un'ottima idea, ci sono due connettori qua SATA, sfrutto i connettori SATA classici del drive per aggiungere una ventola ventola che però non va ad influire tantissimo su quelle che sono le temperature e io mi sono proprio qua concentrato sul discorso termico, i 4 core che poi diventano 8 con l'hypertrading arrivano anche a 99 gradi quando voi non avete il Frost Core inserito oppure arrivano a 96-97 gradi quando lui è attivato la tastiera in realtà resta anche su buoni valori con un 42 gradi nei test di stress con 3D Mark ad esempio però il retro, la zona qua, questi enormi feritoi posteriore arrivano anche a 55 gradi questo porta soprattutto quando siete sotto grosso carico a far girare molto velocemente le due ventolone che sono installate sul retro c'è anche una stranded pipe con un grosso dissipatore e quindi un portatile che si taglia come tutti gli altri portatili da gaming si fa sentire quando è assolutamente sotto stress ma cosa serve allora questo modulo esterno di Cooler Master? beh a raffreddare soprattutto le memorie e dischi se andiamo a guardare proprio dove è posizionato non può arrivare a toccare e influenzare lo smaltimento del calore delle CPU in alto e della GPU ma resta su quelle parti più passe quindi permette di abbassare quei 4-5 gradi non impedisce il throttling quando siete proprio al massimo quando lo mettete sotto torchio ma insomma visto che lo trovate nel prezzo e visto che potete decidere voi se inserirlo o meno è assolutamente una cosa positiva così come sono cose molto positive anzi forse il vero valore aggiunto di questa macchina i software rusher che sono preinstallati ce ne sono diversi la maggior parte davvero utili vi cito Predator Sense il software che vi permette di gestire un po' temperature e cose varie ma soprattutto vi permette di gestire l'illuminazione e le zone di illuminazione della tastiera ce ne sono 4 nel mio modello e voi potete da qua decidere quale attivare impostare anche delle macro per fare proprio questo e poi attivare contemporaneamente wifi a c che se vi perso fa dei valori stellari vabbè e gigabit ethernet quando li attivate tutte e due il sistema usa la rete cablata per i giochi e la rete wireless per tutto il resto quindi voi potete giocare senza aver paura senza preoccuparvi di qualche software in background che magari vada a scaricare gli aggiornamenti e vi faccia perdere la partita e qua facciamo una cosa un po' diversa sapete che io non sono un esperto di videogame quindi ho chiesto ai colleghi di multiplayer.it dato che hanno provato questa macchina prima di me un parere su rusher predator 17 come va con i giochi? direi che è assolutamente ottimo con i giochi d'altra parte l'intel core i7 unito alla geforce gtx 980m e al monitor che supporta in modo nativo il gsync rendono questo predator 17 più un desktop che un portatile lo abbiamo provato con un sacco di titoli tra cui fallout 4, the witcher 3 wild hunt, metal gear solid 5, the phantom pain e anche the division e con tutti alla risoluzione di 1080p ai settaggi alti si riesce sempre a raggiungere i 60 frame al secondo naturalmente se si vogliono utilizzare i 4k nativi del monitor bisognerà scendere a compromessi per il resto prima di chiudere posso darvi tre dettagli hardware l'autonomia, la batteria è enorme lo sappiamo ma la durata non può essere grande con un 17 pollici 4k gestito da un hardware così 3 ore 10 minuti il nostro test di HDblog e sarebbero anche buoni quando in realtà nei giochi arrivate a un'ora e mezza di fatto io non vi consiglio mai di staccare il suo alimentatore che è un 180 watt anche compatto devo dire mentre state utilizzando, mentre state facendo un rendering o qualcosa di serio perché le prestazioni crollano chiaramente la cpu non può consumare tanto e quindi scende un po' si parla sempre di un tdp superiore a 35 watt quindi il consumo c'è però lui entra in una sorta di risparmio energetico che insomma vi permette di soprattutto magari spostarvi la batteria in questi portatili può essere utilizzata a modi UPS o comunque per spostamenti che possono essere e devono essere assolutamente brevi la seconda riguarda la velocità spaventosa del modulo SSD e la terza è la presenza di una Thunderbolt 3 in aggiunta alle uscite video HDMI e DisplayPort e quindi per pilotare massimo tre display esterni cosa invece non mi è piaciuto da punto di vista hardware la velocità del disco meccanico ok è solo per i dati, è vero però 120 in scrittura, 120 in lettura sono pochi, ci voleva una SSD e questo comunque è tutto, dai questo è quanto su Acer Prater 17 è una macchina che va presa in considerazione quando volete qualcosa di definitivo non solo un portatile una macchina che può essere gaming, walkstation utilizzo di tutti i giorni perché è chiaramente comodissima con questa tastiera e con questo schermo e sarà davvero interessante seguire gli sviluppi di questa categoria di questi laptop enormi da gaming durante la seconda parte del 2016 stanno per arrivare i nuovi processori Intel stanno per arrivare nuove GPU dedicate al mobile e quindi vedremo se riusciremo ad avere qualcosa di ancora più ottimizzato ancora più completo già queste macchine rispetto a due anni fa sono di tutt'altro pianeta sono macchine adatte un po' a tutti sempre meno di nicchia e quindi cercheremo di seguire tutti gli sviluppi già dal prossimo IFA 2016 che ci sarà a fine agosto per maggiori informazioni poi come al solito ci sono tanti altri dettagli tecnici che non vi ho detto in questo video vi rimando alla recensione completa all'articolo che ho appena pubblicato su hdblog.it qua sotto in descrizione trovate il link per raggiungerlo direttamente insieme al pulsantino per mettere un mi piace e per iscrivervi al canale all'articolo che ho appena pubblicato su hdblog.it all'articolo che ho appena pubblicato su hdblog.it